Stefano Butti è stato una bandiera dell'Arezzo anni 80, adesso è il presidente del Museo Amaranto. C'è questa iniziativa, Road to 100, manca quasi un anno alla celebrazione dei 100 anni dell'Arezzo, ma già qualcosa si muove Stefano. Sì, ho sentito un po' la società che vuole organizzare insieme a noi Orgoglio Amaranto qualcosa di importante, perché il centenario penso che sia una data molto importante, noi siamo disponibilissimi, ci troveremo, faremo un tavolo dove verrà illustrato un po' quello che vogliamo fare. Come museo siamo superorgogliosi di partecipare a questa iniziativa e speriamo che si faccia qualcosa di veramente bello. Pensare di tagliare il traguardo dei 100 anni è particolarmente emozionante. Sì, il centenario penso che sia una delle date più importanti, ci sono poche società che hanno avuto l'onore di festeggiare questo centenario. L'Arezzo vuole fare qualcosa di importante, stanno facendo bene anche come squadra, speriamo di festeggiare il centenario in una categoria più consona all'Arezzo. Probabilmente te hai vissuto uno dei momenti migliori del calcio aretino, quello degli anni 80, del presidente Terziani, del presidente Butali. c'era tanto entusiasmo, c'era tanto pubblico sugli spalti, forse era un altro calcio. Sì, esatto, hai detto bene alla fine, era un altro calcio, un calcio dove la televisione faceva vedere poco e niente, dove la gente per vedere la partita andava allo stadio e la cosa più importante è aver vissuto un periodo dove veramente Arezzo c'era una dirigenza fantastica, un gruppo di giocatori fantastici che per 5-6 anni hanno fatto grossissimi campionati.